Ciao a tutti, io sono Francesca Marra, ho 36 anni, 37 quasi, e sono di Reggio Calabria, quindi nata al sud e vivo a Verona da quasi 8 anni. Sono nata come fotografa e ho iniziato a studiare fotografia all'età di 23 anni dopo un percorso molto doloroso della mia vita, e la fotografia è stata la mia terapia, ecco, una terapia che ha permesso di far sì che una donna come me che aveva vissuto violenze, che spesso molte donne vivono, psicologiche e fisiche, riuscisse a rialzarsi e non mollare. Quindi in questi dieci anni di percorso, grazie alla fotografia sono riuscita a rinascere, e quindi questa è Francesca fondamentalmente, una persona che ha tante cicatrici ma che ha tanta forza per andare avanti. Ho iniziato a studiare fotografia partendo dalle basi che già mia madre mi aveva trasmesso, mi ha insegnato a utilizzare la mia musica che utilizzo ancora all'età di dieci anni, ho sempre scattato quindi in analogico e tendenzialmente la mia predilizione è rimasta quella, quindi fotografia analogica, stampa analogica, il profumo dei chimici, nonostante comunque poi appunto attraverso la fotografia presso uno studio privato, quello di Alessandro Malamaci, giù, poi i due anni di master alla Scuola Romana di Fotografia e Cinema, mi abbiano dato chiaramente una formazione a 360 gradi, quindi conosco tutte le tecniche digitali, anche possibili e immaginabili, mi sono anche specializzata in color collection negli anni, e sicuramente mi sento chiaramente arricchita da una formazione completa, in quanto riesco a spaziare da appunto quello che può essere la materia, la carta, la scelta quindi dei materiali che per me poi mi accompagna anche durante il festival ed è fondamentale, al disegno, quindi riesco a realizzare dei layout, riesco a seguire gli artisti poi nella produzione, anche nella post-produzione eventualmente. e questo, quindi Francesca Marra è di partenza una fotografa che poi aveva dei sogni e ha cercato di realizzare. Allora, fondamentali sono stati dei docenti per me, che distingo da altri. La prima è Lina Pallotta, la mia prof che mi ha accompagnato per un anno intenso, che mi ha dato tanta forza e con la quale io ho ricominciato a parlare, perché ancora all'università non parlavo. Lei ha tirato fuori la mia grinta, quindi mi ha trasmesso tutte le nozioni, tutto quello che lei conosceva, il suo punto di vista chiaramente, che in parte è anche il mio, nel senso che io tendenzialmente cerco di raccontare quello che accade, quello che mi circonda. Non riesco a non raccontare quello che vedo all'interno del sociale e devo studiare un luogo, le persone, trascorrere il tempo con loro, quando racconto comunque una storia. Altro personaggio importante è il professor Nazario Dal Poz, che era il redattore dell'Espresso e che mi ha trasmesso tantissimo sulla storia della fotografia. E quindi con lui lo studio è stato piacevole, piacevole scoprire tutti questi autori che comunque, partendo dalla Farm Security Administration, andando a Klein, dico un po' quelli che proprio mi sono rimasti dentro e che tuttora accompagnano il mio percorso, De Marchelier, perché comunque amo la fotografia di ritratto, soprattutto appunto in analogico, banco ottico, in Hasselblad, e poi la stampa che viene fuori, quindi tutto un percorso anche sulla moda che parte dalla visione e poi arriva alla materia, quindi un progetto che va dall'inizio alla fine, la sua realizzazione è un qualcosa di meraviglioso quando soprattutto lo hai fatto in fase di scatto e poi in sviluppo. Un altro autore, Marrei, quelli sono rimasti dentro e comunque fanno parte della storia delle fotografie che credo che tutti debbano conoscere, perché la formazione e lo studio è essenziale, un fotografo non può essere completo se non studia. Altro punto di riferimento appunto come docente per me è stato Augusto Pieroni, con cui ho studiato Visual Arts e Analisi Critica, la fotografia secondo me si sta un po' perdendo, nel senso che come in tutti gli altri ambienti, quello che può essere la tecnologia, il cinema, Netflix, tutte quelle cose che sono un po' per me troppo sofisticate, troppo tecnologiche e troppo moderne, appunto perché è una che utilizza ancora il banco ottico e riesce a utilizzare a malapena un altro strumento, un'altra macchina fotografica digitale, ma in modo molto limitativo. secondo me il modo per salvare, tra virgolette, la fotografia è tornare indietro, nel senso che ci sarà un momento in cui tutto quello che noi stiamo utilizzando adesso verrà meno, secondo me. La troppa tecnologia anche sparirà e sopravviveranno quelli che appunto sanno sviluppare un rullino o sanno scattare in analogico. È forse un'utopia la mia, però probabilmente ci sarà una selezione naturale, una selezione naturale che permetterà a quelli che proprio hanno creduto, hanno studiato e hanno avuto una posizione anche per conoscere e formarsi completamente e potranno andare avanti. E chiaramente la fotografia potrà sopravvivere anche con la sua apertura, nel senso che le arti visive, anche l'arte contemporanea in sé, sono tutte collegate, anche in un ambiente in cui prevale la fotografia. Adesso mi permetto appunto di parlare un attimo di quello che noi facciamo, di Grenze. Grenze spazia in tutte quelle che sono le arti visive, e si basa, parte dall'arte contemporanea, anche perché appunto il mio co-fondatore, co-curatore Simo Nazzoni, è docente di arte contemporanea e critico d'arte. Quindi le nostre formazioni si completano, questo per me è essenziale, mi ha fatto capire quanto sia importante aprirsi anche alle altre arti e in un certo senso anche ingombarle. Cioè noi all'interno del festival, comunque dei nostri eventi, abbiamo elementi anche di arte contemporanea, non soltanto di fotografia. Avevo la necessità di creare qualcosa che venisse da me e che appunto fosse la spinta dopo tutto quel percorso di ricostruzione personale. Io credo tantissimo negli artisti, quindi sapevo che comunque sarebbe stato un investire in questo e soprattutto sarebbe stato per me un poter dare, perché io mi occupo principalmente anche all'interno dell'associazione di formazione, formazione di tirocinanti, dei volontari e di tutti coloro anche partendo dalle fasce di età più piccole e arrivando poi all'università vogliono affiancarci. Quindi questa cosa per noi è fondamentale, che è poi l'identità del festival che ha unito me e Simone in questa cosa. Lui ha sempre puntato su artisti anche sconosciuti, quindi studiando appunto anche artisti che possono andare dalla grafica all'illustrazione a installazioni, performance, design, insomma lui ha spazio in tutti quegli ambiti dove io non arrivo. Ecco, il suo credere negli artisti e investire in loro ha fatto sì che lui negli anni nella città di Verona, perché lui è di qui, quindi conosce l'ambiente meglio di me, già da vent'anni costruisse situazioni in cui ci fossero dei micro festival, ecco, in cui le arti si potessero mescolare tra di loro. Nel momento in cui io sono arrivata abbiamo unito queste due componenti e abbiamo cercato dei collaboratori, perché io all'inizio non volevo apparire, non ero ancora pronta proprio per il mio passato, avevo bisogno di altro tempo, e quindi gli ho chiesto di chiedere ad altri docenti o ad altri fotografi di cui mi fidavo di andare avanti. Si è iniziato un percorso che poi ha portato al presidente attuale, che sono io ormai da quasi sei anni, e quindi sono dovuta uscire fuori. Le diverse situazioni hanno fatto sì che, insomma, Grezze si consolidasse nelle nostre due figure. Chiaramente poi affiancate da un team che è veramente attivo durante tutto l'anno e fa formazione, è un ambiente splendido, direi. Allora, è complicato descrivere la figura di un curatore. Io chiaramente nella direzione artistica svolgo le stesse funzioni di Simon Azzoni, quindi ci sono alcune mostre che curiamo singolarmente e altre invece in cui abbiamo una curatela congiunta. Questo ci aiuta molto, nel senso che ci sono dei momenti in cui lui è così tanto preso nella scrittura dei testi, perché comunque ha quella propensione che è caratteristica fondamentale anche dei critici d'arte. e ci sono quei momenti in cui io delego lui a quella cosa e lui mi chiede di pensare invece esprimendomi il suo desiderio riguardo ad una mostra a come questa potrebbe essere il salato realizzata. Quindi è un completarsi anche sul disegno di un layout, sulla proposta che poi si fa all'artista e sui punti di forza che entrambi ambiamo e che noi cerchiamo di esprimere all'artista. Chiaramente poi si arriva sempre a un compromesso, un compromesso che parte appunto dal nostro sentire emotivo, alla nostra conoscenza e al sentire emotivo dell'artista, a quello che lui vorrebbe raccontare, ma che comunque deve essere raccontato all'interno di un tema. Qui a Verona abbiamo un pubblico misto che va dagli amatori della fotografia ai fotografi e al turismo che ci accompagna durante tutto l'anno. Quindi cerchiamo di scegliere degli artisti che chiaramente siano internazionali, quindi non solo italiani. Cerchiamo di tradurre sempre i testi in due o più lingue e chiaramente cerchiamo però di essere liberi nonostante all'interno di un festival poi ci siano i pro e i contro, ci possono essere le critiche costruttive e non, ma cerchiamo di dare, di trasmettere il nostro punto di vista a un pubblico che è vario e che chiaramente poi inizia a seguirci nel tempo. È una relazione continua anche con loro, è un invitarli a diversi eventi. Ecco, quindi cerchiamo di costruire qualcosa che poi si ripete durante l'anno e non solo all'interno del festival ma anche durante le mostre che sono sempre aperte a tutti perché Grenze comunque non ha un costo di biglietti e nemmeno le mostre, quindi cerchiamo comunque di rendere partecipi e di dare alla città quello che riusciamo a dare. Grazie a tutti.